Trottare il suo... non è che si può collaborare? Sento, è stato il digiugno, buon po'. Allora ragazze, va bene, non è stato solo il pubblico, ma in ammigli, lo dati, in attività, in società, sono favori dei coli. E il titolo è patatina, fragolina, pisellino, vanno usciti dall'asilo, mariuccio, cortesemente... Dall'orto, anche dall'orto. ...virtù, un bellissimo film, no? Di tempi che furono. Comunque, troppo smancherie in pubblico per intenderci, limonate, pompermi per dargli una parvenza grumata. Sempre nell'orto, se arriva. Sempre, non, o l'orto. Non so voi, ma sentire qui a tremato. Non, ça va. Si me l'hanno pubblicato, non c'è niente di scandalo, ce sarà... Per fare, ovviamente, questo tipo di segnalazione, però è il momento in cui speriamo, visto con l'uscita di questo singolo, che magari arrivi un disco nuovo. Io ci spero sempre, magari poi l'annuncio di un tour nel 2022, nel 2023. E vi dico, andate, perché lei è straordinaria, accompagnata da dei musicisti veramente, veramente incredibili, ma lei è il cuore pulsante della band, sia per la sua presenza scenica, la sua bellezza, la capacità di comunicare attraverso i movimenti e poi... Causalità. Potete parlare? Causalità. Devo dire solo causalità o posso dire anche altre parole? Allora, ragazzi, sì, ci siamo dimenticati di dirvelo, ma tanto stanno già arrivando 3,4,8,7,300,200 i candidati per il nostro quizone, che ultimamente si è fatto un pochino più semplice, sono contenta, c'è sempre di mezzo una canzone, ma stavolta non trovo il quiz, quindi non sono... Ce l'ho io, ce l'ho io, ragazzi, fate... Si identificò come Radiolina. Grazie a tutti, grazie a tutti.